Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. È uno dei tantissimi giocatori di talento usciti dal vivaio dell'Atalanta, con la quale a vent'anni esordisce in Serie A e vince una Coppa Italia, segnando una tripletta nella finale al Torino. Ma la carriera di Angelo Dominghini, nato nel Bergamasco nel 1941, è legata soprattutto all'Inter e al Cagliari. Con i Nerazzurri, dal 64 al 69, vince due Scudetti, una Coppa dei Campioni e due Inter Continentali. Quando viene ceduto in Sardegna, Dominghini ritrova con più continuità la sua amata numero 7 ed entra nel cuore di tutti i sardi insieme agli altri ragazzi dello storico Scudetto del 70. E nel cuore di tutti gli italiani entra con la vittoria nell'Europeo del 68 e con il secondo posto nel Mondiale Messicano due anni dopo. Di quella nazionale, Dominghini è l'indiscusso padrone della fascia destra. Veste le maglie di Roma, Verona, Foggia, Olbia e Trento. Prima di interrompere la carriera di giocatore e iniziare quella di allenatore nelle serie minori.